Il centro di servizio per il volontariato etneo oggi parla di emergenza abitativa, in questo senso c'è anche un accordo con il comune di Catania, però bisogna specificare che non è per un singolo intervento, si parla di volontariato per tutto l'anno. Sì, allora il comune di Catania nel mese di marzo ci ha coinvolto nel progetto estate catanese, il primavera estate catanese, chiedendoci proprio di fare questa raccolta fondi perché ha individuato tra le priorità della città di Catania l'emergenza abitativa. Noi abbiamo accolto e abbracciato e sposato un po' oltre che tutte le iniziative in programma anche l'idea di fare questo salvadanario che poi si concretizza in un conto corrente che oggi appunto presentiamo alla cittadinanza proprio per invitare tutti nell'ottica della rete, quindi comune, associazioni di volontariato, centro di servizio e chiaramente anche la cittadinanza ad essere parte attiva e quindi a conoscere e a svolgere il proprio ruolo rispetto a questa emergenza. In questo momento per cosa state lavorando? Questo salvadenaio a che cosa è destinato? Allora in questo momento diciamo che lo stiamo tra virgolette inaugurando, lo stiamo promuovendo nell'ottica della massima trasparenza, mi piace sottolinearlo che questo conto corrente non è un numero come dicevo prima ma ha dei visi dietro, c'è un centro di servizio quindi volontario, il presidente, gli operatori, la sottoscritta che è disponibile a dare qualsiasi informazione e che mensilmente daremo conto della cifra raccolta e poi delle modalità con le quali questi fondi verranno impiegati. Possono essere emergenze più diverse, può essere supportare una famiglia in difficoltà con le mensilità, con degli eretrati per un contratto di lavoro che è in fase di rinnovo, per un anziano che vive una situazione o un momento di difficoltà, un immigrato che vive il problema della diffidenza rispetto al suo locatore poi anche tante altre situazioni che di volta in volta, comune, associazioni volontariate o centro di servizio riterranno appunto prioritarie chiaramente dipenderà anche dal fondo che si raccoglie ed ecco appunto che l'invito alla cittadinanza è quello di sostenerci. Per tutti coloro che volessero intervenire alla raccolta fondi a cura del CSWE è possibile donare sul conto corrente IT2310335901600100000068519 sul conto intestato al CSWE della Banca Prossima causale per l'emergenza abitativa. Grazie a tutti!